Siamo con Matteo Salvini all'inaugurazione del Cassani Point a Gallarate. Allora, Cassani, l'imprimatur del Capitano. No, della gente. È un martedì mattina e c'era la piazza piena, ha lavorato bene, evidentemente, con umiltà, con onestà, con concretezza. Le imprese che ho incontrato stamattina ringraziavano il Comune, perché quando è sì e sì, quando è no e no, non gli fa perdere tempo. Quindi avere un Comune che aiuta le imprese, aiuta le famiglie, che semplifica, che velocizza, è un valore aggiunto. Quindi penso che ci siano altri cinque anni per completare l'opera, mentre nella vicina Varese ci sono cinque anni per rimediare ai ritardi, agli errori della sinistra uscente. Ecco, appunto, può essere anche un trampolino di lancio per i sindaci della Lega, per il futuro e soprattutto adesso c'è il PNRR in provincia di Varese. Come può essere declinato? Quanto può essere importante qui? Può essere importante per tutta Italia? Io ho chiesto a Draghi un maggior coinvolgimento rispetto al passato dei Comuni e delle Regioni, perché non possono esserci 200 miliardi gestiti da Roma in maniera centralizzata. Quindi è importante ascoltare il sindaco di Galarate, il sindaco di Milano, il sindaco di Brescia, il sindaco di Reggio Calabria e il sindaco dell'Aquila e avere le Regioni che fanno da regia. Penso che sia una grande opportunità per le famiglie e per le imprese. Ecco, basta non fare aiutini. Ieri ero in Piemonte alla TAV. Ecco, la TAV si fa e l'Italia viaggerà in velocità e in sicurezza grazie alla Lega, perché se fosse stato per PD o 5 Stelle eravamo lì ancora con un buco sotto una montagna. Quindi i soldi prestati dall'Europa, perché è bene ricordare che sono soldi prestati che andranno restituiti entro il 2056, dovranno essere usati per far crescere il territorio.